Bernardo Sofia è il nuovo presidente della CNA di Eteramo, è stato eletto nell'ultima assemblea. Intanto lei di cosa si occupa? Mi occupo della modelleria ceramica sanitaria, modelli quindi per bagni, sviluppo prodotto. L'azienda si chiama Nuova SMA di Bellante Stazione e stiamo in essere dal 1992. Lei è stato eletto all'unanimità? Sì, siamo stati eletto all'unanimità, è stata una grande emozione, questo è un po' come sicuro, nel senso che puoi immaginare che tutta la direzione e l'assemblea ha acclamato nella mia nomina. Da quanti anni è dentro la CNA? Tantissimi anni fa, stiamo parlando, ero molto giovane, 1992, quando abbiamo iniziato l'attività avevo all'incirca 20 anni, quindi ormai sono 25 anni passati. Quali sono i suoi progetti per la CNA? Diciamo che sono tantissimi, però l'obiettivo principale puoi immaginare è quello di aiutare il territorio, che è la cosa principale, considerando il periodo che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, che sarà molto arduo per poter un attimino riportare a un certo livello tutte le imprese, anche nell'ambito di privati, vi dicendo. Lei infatti diventa presidente forse in uno dei momenti più difficili per l'economia locale, in particolare proprio per gli artigiani. Sì, certamente, Sabinissimo, a prescindere dalla crisi del 2008, il nostro territorio poi da agosto del 2016 non gli è mancato nulla, come dicevo anche nel primo intervento fatto in assemblea, però direi che uniti potremo sicuramente sorpassare o superare questo scoglio, questa roccia.